L'Unione Europea sembra sulla buona strada per introdurre entro l'estate il suo passaporto vaccinale, chiamato Green Certificate. Abbiamo chiesto un aggiornamento al commissario alla giustizia Didier Reinders. Sarà possibile avviare i negoziati all'inizio di maggio ed essere pronti entro l'estate, dice. Partiremo a giugno con un vero e proprio nuovo regolamento. Dal punto di vista tecnico abbiamo assistito a nuove evoluzioni in alcuni stati membri come la Francia o la Danimarca, con alcuni tipi di certificati per diverse attività. E dall'inizio di giugno organizzeremo un progetto pilota con gli stati membri per organizzare l'interoperabilità a livello comunitario e prima dell'estate. Questa settimana l'OMS ha criticato i piani di questo documento dicendo che non è sicuro che i vaccini fermino effettivamente la trasmissione della malattia. Continua Reinders. Per il momento non sappiamo se esiste una reale immunità circa la trasmissione. Ovviamente ci sono alcuni indizi, ma non sappiamo se c'è una reale possibilità di essere contagiosi una volta vaccinati. Quindi, se c'è un contagio, potrebbero esserci alcune misure da prendere. Non lo sappiamo. Stiamo lavorando con una reale flessibilità per vedere passo dopo passo quali sono le conseguenze della vaccinazione e del recupero da Covid. Abbiamo detto che è possibile immunizzarci per un massimo di 180 giorni. Forse sarà meno, dipende dagli sviluppi. Allo stato attuale sembra che il certificato sarà disponibile per le persone subito dopo aver ottenuto il loro primo vaccino. Avremo sul certificato tutti i diversi riferimenti e dati. Se è stata assunta una dose, se sono due dosi, tutto verrà descritto. Sarà possibile ricevere un certificato con tutti i diversi elementi. Recupero, test, vaccino. E per il vaccino, che tipo di dose e autorizzazione o meno, da parte dell'EMA. Chi non si vaccinerà prima dell'estate potrà viaggiare con i test PCR, i cui prezzi dovrebbero essere abbassati. Nelle prossime settimane continueremo ovviamente ad andare oltre con le vaccinazioni. Daremo la possibilità a quelli senza una vera vaccinazione di continuare a viaggiare con i test, test PCR, ma anche con quarantena, se necessario. Questo è il motivo per cui insistiamo affinché gli stati membri siano pronti ad abbassare i prezzi dei test. La prossima settimana il Parlamento europeo discuterà le proprie proposte su questo passaporto vaccinale.